Ecco, un evento di beneficenza, ma un evento molto sfaccettato, l'arte sarà la protagonista? Sì, l'arte sarà la protagonista perché all'interno dell'evento ci sarà un ulteriore evento, che è una collettiva di artisti uniti per la ricerca. La collettiva è ideata e curata da Filippo Malice e me, alla quale hanno aderito tanti artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche emergenti, quindi sicuramente l'iniziativa di donare una propria opera con finalità benefiche è stato il filo conduttore che ha messo assieme l'arte e i suoi protagonisti, perché è vero che il valore intrinseco di ogni opera d'arte è quello che si conosce, lì dove si è quotati oppure soltanto per il valore estetico, ma qui si aggiunge un altro valore che è quello etico, quindi l'arte finalizzata alla ricerca, che è la cosa più importante, in questo caso in modo particolare perché sappiamo che lì dove i casi da studiare, da indagare sono rari, è chiaro che la ricerca purtroppo non ha i giusti fondi per poter andare avanti, quindi dobbiamo fare squadra e sicuramente l'arte è stata pronta per fare questo, pure perché a livello espressivo ed emotivo penso che donare qualcosa che viene fuori veramente dal sentimento degli artisti, perché gli artisti sono stati coinvolti proprio nell'evento, non a caso, aggiunga ulteriore valore alle opere che andremo a disporre, se qualcuno è interessato può acquistare l'opera e tutto il ricavato andrà alla fondazione, perché le opere verranno proprio donate alla fondazione, quindi durante l'evento sarà possibile ammirarle, perché saranno in esposizione e acquistarle portando a casa anche un pezzo di cuore di questi artisti, che iniziano oggi, si sono trovati oggi ma hanno intenzione di continuare a fare questo percorso anche in futuro.